Mobilitazione contro la legge Calderoli sull'autonomia differenziata anche in Italia Viva che ieri a Pescara ha riunito i suoi tesserati per l'Assemblea regionale. Il partito di Renzi impegnato in prima linea nella raccolta firme per il referendum abrogativo anche nella nostra regione. Noi mobilitiamo Italia Viva a ogni livello provinciale e regionale per la raccolta dei firme per abrogare con il referendum abrogativo l'autonomia differenziata. E' un autentico tradimento e i parlamentari abruzzesi che hanno votato l'autonomia differenziata in Parlamento sono dei traditori del sud dell'Abruzzo, hanno tradito casa loro. Perché questo progetto non è solo che spacca l'Italia, questo progetto fa veramente arretrare di un sol colpo tutto il sud dell'Abruzzo con meno soldi, meno risorse, meno sanità, meno scuola. Sarà un disastro, veramente salta tutto e quindi noi siamo mobilitati e è ovvio che dentro questa mobilitazione, che non a caso avviene con tutte le forze del centro-sinistra, col sindacato, si apre anche una riflessione sul futuro di Italia Viva. Sul fronte prettamente politico dunque il dibattito aperto a livello nazionale su quale collocazione migliore debba avere la grande famiglia dei centristi e riformisti. Si è fallito il progetto del terzo polo, l'idea è quella di comporre all'interno del centro-sinistra una più che rappresentativa realtà di centro che al momento manca ancora ad Alessandro. Il dibattito nazionale è noto ricostruire il terzo polo alternativo a destra-sinistra oppure dare vita insieme ad altri ad un partito di centro-centro-sinistra alleato organicamente nella coalizione di centro-sinistra. Questo dibattito oggi trova dei favorevoli al contrario. Personalmente io sono sempre stato dell'idea e l'ho fatto in Abruzzo che un partito riformista non può non essere collegato nel campo del centro-sinistra. Certo non è una gentile concessione di 5 Stelle, la scelta di stare in un campo non lo decidono loro, lo decideremo noi attraverso i nostri organismi.